ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video io sono daniele marchese e nel video di oggi andrò a doppiare uno spot pubblicitario uno dei secondo me uno dei migliori spot pubblicitari di sempre uno dei più fighi lo spot pubblicitario della pecheaux quello che viene doppiato da stefano accorsi d'accordo ragazzi vi auguro una buona visione e soprattutto un buon ascolto l'istinto è tutto ci spinge lontano ci porta a guardare oltre ci fa percepire le cose prima degli altri il nuovo pejot i cockpit è una concezione di guida unica al mondo guidare diventa così istintivo che ti sentirai una cosa sola con il mondo intorno mai la tecnologia si è spinta così lontano bene ragazzi il video di oggi termina qui spero che il doppiaggio sia stato di vostro credimento e se così fosse lasciate un bel mi piace vi raccomando iscrivetevi al mio canale attivate la campanellina delle notifiche per non perdere nessun video futuro ciao ragazzi un bacione e a presto